Oggi vi presentiamo uno dei twist più famosi e secondo me anche più buoni del Martinique Cocktail. Stiamo parlando del Gibson. Perfetto, vediamo subito cosa ci occorre per costruire questo fantastico drink. Coppetta di servizio ovviamente, già raffreddata, così come il mixing glass. Cominciamo subito andando a svuotare l'acqua in eccesso che si è formata nel mixing glass. Poi, gin 60-65, anche 70 ml, a seconda un pochino di chiaveti di fonte di come lo beve. Io oggi lo andrò a bilanciare in questo modo. Utilizzerò un gin Plymouth Navy Strength, quindi in relazione un po' più alta, stiamo parlando di circa 57 gradi. Due once, direi che è una buona dose per cominciare a bere Gibson. Eccoci qua. Poi, un bel Vermouth Dry. Io oggi con voi voglio provare a usare il Lille Blanc, che ha delle sfumature un pochino diverse rispetto ai classici Vermouth Dry che usiamo, come potrebbe essere il Martini piuttosto che il Carpano. Ha delle note un pochino più ossidate, proprio per la tipologia di lavorazione che segue l'azienda. Mezz'oncia. E poi, come sempre, andiamo a miscelare il tutto. Andiamo ad aggiungere un pochino di ghiaccio. Ragazzi, come vedete, i nostri strumenti che utilizziamo sono sempre di top qualità, quindi se volete il link in descrizione trovate tutto sul sito Bartender Mania. Andiamo a stirare il nostro Gibson. Perfetto, andiamo a raggiungere temperatura ed edulizione necessaria. Suvotiamo la nostra coppetta del ghiaccio in eccesso e dell'acqua in eccesso. Andiamo quindi a versare il nostro drink. Ecco qua. Ok. Guarnizione, caratteristica principale del Gibson, è che è un Martini che ha le tre cipolline. Quindi, finiamo col classico tovaglino di servizio e il nostro Gibson è servito. Eccoci, come sempre, ragazzi, per dare e parlare dei dettagli storici di questo fantastico drink che è appunto il Gibson. Premetto subito che la ricetta che vi ho mostrato è un buon bilanciamento che può piacere a tutte le persone che si vogliono approcciare a questo tipo di drink online. E altri bartender sicuramente tenderanno a proporlo con delle variazioni di bilanciamento e una che a me piace in realtà molto è quella di spruzzare semplicemente il vermouth nella coppetta e poi far lavorare quasi da solo il gin. Però, ripeto, è uno di quei drink che è poi della famiglia Martini che si presta veramente a tantissime variabili. Detto questo vediamo un po' dove nasce. È un drink che ha diverse leggende per quanto riguarda la sua nascita perché si parla di almeno tre o quattro personaggi che portano appunto il nome Gibson. Uno di questi è un importante uomo d'affari new yorkese che durante gli incontri con i suoi competitor o con le persone con cui doveva andare a fare appunto affari era al solito bere e portandoli a pranzo e bere tre o quattro martini cocktail. Lui però non beveva e contava sul fatto di farselo fare con dell'acqua e le cipolline per non confonderlo con gli altri martini serviti invece con l'oliva affinché i propri commensali si ubriacassero e potesse poi quindi strapparli dei contatti più vantaggiosi. Un'altra storia è quella dei due gemelli che si chiamano appunto Gibson che chiedevano il martini cocktail ma detestando le olive se lo facevano fare con due sole cipolline. Ma la verità è che la prima traccia scritta del Gibson appare nel 1908 nel libro di Boothby che è il World's Drinks and How to Mix Them. Il Gibson prende appunto il nome da Charles Dana Gibson che è un disegnatore vignettista famosissimo a New York all'inizio del Novecento. Famoso per disegnare e creare vestiti anche per donne che ha preso il suo nome quindi fu la volta delle Gibson Girl. Io vi consiglio di andare a vedere questa storia perché è veramente interessante capire anche dove è inserito come contesto sociale il Gibson. Ragazzi che dire io come sempre spero di avervi tenuto un po' di compagnia, avervi fatto vedere qualcosa di nuovo. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e di seguirci sul blog. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti!